E' la testimonianza dell'impegno delle forze armate e anche dei civili italiani per uno sforzo congiunto per la pace, un impegno che noi cerchiamo da sempre, nel nostro spirito, nelle nostre tradizioni. 19 anni fa la tragedia di Nassiria, un camion bomba uccise 30 persone, 12 erano militari dell'arma dei carabinieri. L'anniversario della strage è stato ricordato anche ad Arezzo di fronte al monumento dedicato alle vittime. Gli italiani all'estero, dovunque, forti delle loro tradizioni, del loro diritto, della loro civiltà, esportano un modello da emulare, un modello da copiare. E veniamo apprezzati per la nostra vicinanza alle persone, per la capacità di parlare, a prescindere dalla lingua che viene parlata sul posto, di entrare in contatto e di dialogare. Ogni anno si rinnova il dolore di una ferita mai rimarginata, una sofferenza, afferma Marco Entravaia, figlio del vicebrigadiere dei carabinieri Domenico, nel ricordare appunto il sacrificio del padre. La sofferenza è però accompagnata da un grande orgoglio per l'eroico sacrificio di mio padre, che come i suoi commilitoni caduti nello stesso eccidio, era consapevole del pericolo che correva. Sì, il valore della memoria è inestimabile e con i nomi viene data quella giusta considerazione che meritano appunto i nostri eroi. Dobbiamo ricordarli uno per uno.